4 oggi l'anno dopo lo scastrarsi. No, c'è dritto così ok per le a sinistra prima ti parlo di buco io merda oh che due voglio ero tipo ma che cazzo è sto suono nella tempesta noi non lo facciamo, ne lo sciamo ne lo sciamo, lo sciamo, cracker nella tempesta è lì perché nella tempesta è l'apparizio porca madonna andiamo a livello a vento allora eh lo sto facendo mi ha dato di succhia lo strozzo eh ops vediamo guarda che ok per me ci cercherò ci ha grappati mi ha tagliato fuori i giorni ma dove si fanno dentro il canale ah, lì è stato dentro la nave ok penso che sembrava in fungo all'agissario utile di farcela sto punto no, però no no, poi non costiamo fare il crack nella tempesta inseguiamo l'agissario, siamo un brigantino eh, hai ragione eh, più bene, facciamo quello che stiamo facendo però ce lo facciamo finché non ci libero eh, più a forza dobbiamo fare finché un trigger eh, sì, esatto non possiamo scappare eh, no, infatti anche perché non possiamo tenere la nave dritto questo cazzo di tempismo del merdo il dribble sta stagirando per provare forse a venire da noi no, sto aiutando e il dribble, l'altro risorio stavo dicendo sempre con il dribble quindi sono un po' la stazione di me ma se ne hanno conosciuto eh, succhia ehm, no, va bene ehm, va bene 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 ah va bene va bene ha uggetevi quello che ti capivo usando quel tentacolo lì voi si pa, Jean ah Ok, dovremmo essere quasi usciti Presupia Ok, vediamo il secondo Se ho riconfuso per un player Quindi ho preso la risa Ok, ho uscito l'altro tentacolo Ok, vediamo il secondo Ok, vediamo il secondo Sì, vediamo il secondo Sì, siamo usciti Sì, siamo usciti Ok, vediamo il primo Ok, vediamo il secondo